Qual è la fatica di coniugare la dottrina con il mondo del lavoro? Intanto dobbiamo riscoprirla, perché noi cattolici non la conosciamo o la conosciamo molto superficialmente. Per fortuna il Santo Padre ci riporta con esempi e anche con interventi feroci, ci riporta con i piedi per terra. Il nostro movimento tenta attraverso un percorso formativo di insegnare soprattutto ai nostri giovani il tema della partecipazione, il tema della solidarietà, il tema della sussidiarietà e costruire opere. Noi dobbiamo lavorare su due binari.